vediamo sto massaggio fammelo però no mi mi soggio mi soggio mi soggio no un'altra missione basta questo ci sta che missione devi fare ora ah no è un bug sono le stesse cose semplicemente che te le danno due volte perché è tutto buggato ecco qua c'è scritto missione adesso ascolta bene ascolta bene ascolta bene ascolta bene devo uccidere super mario bros e mi danno la skin sua ufficiale ufficiale veramente sto sto scherzando che cosa devi fare no no è uno scherzo non è vero che devo uccidere super mario bros capito ho capito è una donna non c'è la braccia portata di mano pronti no 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 Grazie a tutti.